Che cosa c'è di più bello di entrare nella galleria estense e vedere davanti la bellezza più assoluta? Sono davanti al Cristo di Guido Reni, questa figura bianca che si inalza non nel cielo, che prende tutto l'universo nelle sue braccia. Questa è la galleria, questa è l'arte, noi dobbiamo essere felici di essere qui, di essere in contatto con la bellezza. Mi chiamo Raina Kabaivanska, sono un soprano.